Musica Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 4 gennaio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che su gran parte del territorio nazionale avremo condizioni di tempo stabile e soreggiato ad eccezione delle estreme regioni meridionali e in particolar modo della Sicilia dove saranno possibili ancora deboli piogge. La ventilazione espirerà dai quadranti settentrionali e i mari risulteranno generalmente mossi o molto mossi, mentre per quanto riguarda l'aspetto termico le temperature risulteranno stabili su tutto il territorio. Per quanto riguarda l'Abruzzo nel dettaglio avremo condizioni di tempo stabile e soreggiato su tutto il territorio regionale. Nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili con i cieli che si presenteranno poco nuvolosi o sereni. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.